Come vedete gli studenti oggi stanno affrontando quelli che sono degli esercizi a livello intermedio che prevedono appunto una dinamicità del tiro il quale scopo principale è quello di essere applicato nel settore difensivo e poi si tocca il quale scopo principale è quello di essere applicato e poi si tocca il quale scopo principale è quello di essere applicato Si vede a fine giornata comunque l'evoluzione dal mattino. Sono molto chiari, faccio spiegare le cose passo dopo passo. Molto interessante le tematiche.